Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati ancora una volta su Fortnite Battle Royale Il gioco che state supportando veramente alla grande e continuate a farlo, continuate a lasciare tanti bei mi piace e io continuerò a portarvelo sempre di più Mi raccomando continuate anche a commentare in tantissimi, con tanti bei consigli e soprattutto iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto E adesso iniziamo e cerchiamo subito un bel posticino dove andare a spawnare senza troppa gente ma con un bel po' di roba da prendere Ok ragazzi non sono mai spawnato in questa sorta di campus però teoricamente non vedo nessuno e a parte un bel tesoro ragazzi Vedo già un bel tesoro, lo sento pure, lo prendo anche e va bene, ci poteva andare peggio come ci poteva andare molto meglio Sapevo anche che c'era un secondo tesoro, medikit, fucile assalto, ormai troviamo solo fucile assalto ragazzi, incredibile Altro tesoro ragazzi, molto bene, scudo, scudo, quindi molto bene così, ce lo andiamo a mettere qui belli riparati E anche un bel fucile pesante, tattico, bello questo qui, ok tanta roba ci sono messi abbastanza bene perché abbiamo i fucile assalto per diciamo le medie e lunghe distanze Abbiamo anche il fucile a pompa per quelle brevi Purtroppo però siamo lontanissimi dalla save zone e quindi dobbiamo iniziare ad incamminarci e a intraprendere questa camminata abbastanza lunga Perché come vedete siamo quasi dall'altra parte della mappa Uraga, altro tesoro dentro il camion, altro medikit, però vabbè niente di che, vabbè giusto perché abbiamo due medikit ma credo che uno bastava e avanzava probabilmente Però chi lo sa un medikit è sempre buono, tanto non mi occupo di altri slot quindi bene così, però ovviamente avrei preferito dell'altro scudo sicuramente Ok, avversario E non voleva morire Prendiamoci prima tutti i materiali e le munizioni Ah, bella roba Ok raga, non so se me lo son sognato ma probabilmente qualcuno mi ha sparato E la cosa brutta è che siamo lontanissimi dalla save zone e abbiamo il lago di mezzo La mia esperienza mi dice che ogni volta che mi sono ritrovato in questa situazione poi ho perso Tra l'altro che cosa ho appena fatto? Ho mosso il mouse dato che gioco col controller Ah, poi altra cosa che volevo dire dato che appunto siamo entrati in argomento controller Molta gente sotto nei commenti mi dice Gigi con che console giochi E molta gente anche giustamente risponde al posto mio dicendo gioca sull'Xbox perché appunto mi vede col controller della Xbox One In realtà ragazzi io gioco da PC quando registro e gioco con il controller dell'Xbox perché con la tastiera e il mouse non mi ci trovo proprio per niente E quindi attacco direttamente col cavo il controller dell'Xbox One e ci gioco tranquillamente che mi viene molto più facile Mentre per quanto riguarda le console ci gioco ogni tanto sulla Play 4 In realtà sull'Xbox non ci ho mai giocato però appunto usufruisco del controller che essendo sempre Windows e Microsoft qui appunto sono compatibili e lo prendo al volo No, era un chiarimento che volevo fare perché sotto ogni video puntualmente c'è la domanda e puntualmente c'è qualcuno che risponde al posto mio e dice dell'Xbox Non sto dicendo che fate male a rispondere e anzi quando riuscite a rispondere voi per conto mio è anche buono Poi se vedete il controller dell'Xbox ovviamente vi do ragione però era giusto per precisarlo insomma Ora manca ancora parecchio la savezone ed è tipo mezz'ora che sto correndo era proprio dall'altra parte E quindi niente per fortuna non stiamo per adesso incontrando nemici anche se io credo che qualcuno da questa cittadina Adesso qualcuno venga verso di là e quindi qualcuno ci prenderà le spalle Oppure saremo noi a prendere alle spalle qualcuno? Magari Eh lo sapevo e mi stava sparando Eppure da dietro No raga era mezz'ora e stavo mirando quello lì Poi si muoveva e non si muoveva quindi non riuscivo a prendere l'esatta mira E da dietro mi hanno fregato come un pollo E tra l'altro dodicesimo cioè ogni volta io muoio o undicesimo o dodicesimo Tra i primi dieci non mi ci vogliono proprio fare entrare Ok raga questa volta ho puntato questa bella montagnola Che non sta riservando nessuna sorpresa Non c'è niente Ma non c'è neanche nulla Tra l'altro qui c'è cioè non lo sapevo ma Un autobus abbandonato Abbandonato uno di quelli che ti portano Nell'arena praticamente Perché sta lì? Non ci avevo mai fatto caso Non l'avevo mai visto ragazzi e che cos'è misterioso? No voglio provare ad andarlo a distruggere ragazzi Voglio provare ad andare a distruggerlo Qui intanto ci prendiamo quello che ci troviamo Vediamo se sotto c'è qualcos'altro Vabbè un po' di pietra Andiamo un attimino a ricercare che stava qui sopra no? No non ci credo Non ci credo non ci arrivavo Non ci arrivavo raga non ci arrivavo Oh ok ci sono riuscito Ma lo sapevo che ci riuscivi piccolo grande uomo Ah no eccolo stava di qua mannaggia la miseria Vabbè Non ci credo dimmi che si può distruggere No raga comunque lo volevo un attimino ammirare meglio Eccolo Ma non ci credo ma perché Oh c'è anche un tesoro sopra Ma non ci avevo mai fatto caso raga Un altro tesoro qui Ma che è tipo un easter egg Che cos'è? Ma perché tutta questa roba proprio qui? E non ci abbiamo trovato moltissimo Preferivo trovare magari uno scudo E niente dunque vediamolo ancora meglio dall'alto Perché c'è lui sì È il bus che ti porta praticamente Sì sì è lui è lui è lui Vabbè proviamo a distruggerlo raga Vediamo se c'è qualcosa No niente Non c'è niente Però due tesori mi ha fatto trovare Oh magari ogni volta fosse così Dunque neanche avevo controllato Ma siamo per fortuna dentro la safe zone E direi che dobbiamo beccare qualche altra arma O comunque qualche scudo Perché così non è che andiamo molto avanti Uh eccolo qui lo scudo Meno male raga Oh altro scudo Che non fa mai male Così arriviamo a 100 Peccato per quel 12 di vita che ho perso all'inizio Per fare un po' GG l'esploratore Però vabbè dai ne è balza la pena Allora ok siamo ancora dentro la safe zone E ogni volta sto vedendo qualcuno Camminare Tipo ho visto qualcuno camminare lì nel bosco E non so se andrà Eccolo lì Allora nascondiamoci da qualche parte E osserviamolo E facciamo i bravi cacciatori ragazzi Cacciatori di taglie Eccolo lì Noi gli arriviamo da dietro Sperando che non si giri Ok non si è girato Sperando che non mi stia Facendo tipo una trappola Noi però arriviamo tipo da quest'altro lato Tipo faccia a faccia Eccolo Mamma mia che mira Mamma mia che mira Mamma mia Che schifo Me la so meritata questa Me la so meritata tutta proprio Ma dove ho mirato Ma ce n'era un altro Io non l'ho capito chi mi ha ucciso Probabilmente è stato solo quello lì Che io volevo prendere da dietro Ma probabilmente mi ha colpito pure questo Perché lui veramente due colpi Tipo mi ha tirato E manco me ne so accorto E poi c'era il fucile d'assalto Quello che mi ha ucciso a me Non lo so raga Non ci ho capito niente So solo che sono stato Una pippa clamorosa Comunque niente raga Una volta che ero riuscito A fare appunto Il cacciatore di taglie Fatto bene Perché l'avevo preso bene Alle spalle Niente appunto Ho fatto Quello scarso E niente Ok raga Anche quel tizio Sta scendendo lì E questo è un problema Ora io scenderei Tipo di qua Perché vedo che c'è tipo un'arma Però visto che lui Ha preso anche lo scudo Sento però un tesoro Quindi magari anche noi Riusciamo a trovare lo scudo Magari Oh perfetto Alla grande E abbiamo appunto anche Il fucile a pompa Che potrebbe darci Una bella mano Lui tra l'altro Sta sfondando tipo tutto Perché sento un casino Per fortuna Siamo dentro la save zone Però sinceramente Era l'ultimo Dei miei problemi Perché io adesso Devo uccidere questo Che cosa sta facendo Quanto scudo ha preso Lo sto colpendo sempre Cioè tranne l'ultima volta No raga No raga No raga No raga Non mi può sfuggire Eh e va va Cioè quanto Quanto scudo ha trovato Questo tizio Per resistere a tutti Quei colpi Non ci credo Comunque Per fortuna Non abbiamo perso Neanche Uno di vita Non abbiamo perso Veramente niente Perché lo abbiamo fregato Magari vediamo Se lui si è scordato Qualcosa sopra Ma vabbè Dubito Infatti Vabbè Ma era normale Sento degli spari Ma non capisco Da dove Allora C'è uno laggiù Che sta scappando Però gli spari Li sento molto Più vicini Che sarà Qualcuno qui dentro Che facciamo Ci addentriamo Raga Ma si dai No Non era uno Qua dentro Non c'è nessuno Qui Uh Ma questo Mamma mia Oddio Ecco qualcun altro Che mi sta sparando Ecco qualcun altro Che mi sta sparando Molto bene Però non mi ha preso Per fortuna Io si Lo so ragazzi Che sto rischiando Un botta Rimane qui Però Mi voglio sinceramente Prendere Quello che mi voglio prendere Ah ok Qualcuno da lì Tipo che sta lanciando I lanciagranate Con lanciagranate sta Però l'ha un po' sprecati Ora non so se lui Mi sta ancora vedendo In realtà Perché Adesso ho fatto Tipo il giro Ma si che mi stava vedendo Si che mi stava vedendo Dov'è però Che io non lo vedo ancora Eccolo lì Dietro l'albero Ah eh E vabbè Questo mi ha fatto fuori Raga Mi ha fatto fuori Mi ha preso da dietro Prima Ma non lo vedevo Mi sparava e non lo vedevo Vabbè però Questa volta Almeno due decisioni Siamo riusciti a farle Comunque raga Spero che anche questo video Di fortuna Vi sia piaciuto Se è così ovviamente Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Per non perdervi Anche i prossimi episodi Per me è tutto E noi ci troviamo Qui sul mio canale Con un prossimo video Ciao raga Ciao